Il dramma degli sfollati Il dramma degli sfollati Il dramma degli sfollati Il dramma degli sfollati Tutti i titoli buonasera, ben trovati con l'informazione regionale di 8 Channel In apertura andiamo subito a Torre del Greco Aumenta il numero degli sfollati dopo il crollo della palazzina Sono quasi 100 i cittadini che non hanno potuto far rientro a casa Intanto migliorano le condizioni della ventenne che è stata estratta viva Per fortuna dalle macerie Cresce il numero degli sfollati a Torre del Greco Dopo il crollo della palazzina avvenuto domenica in corso Umberto I Sono un centinaio le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case Alle 24 che vivevano nello stabile caduto Se ne sono aggiunte un'altra ottantina Residenti nei sette palazzi sgomberati Il comune oltre ad alberghi e strutture ricettive Ha allestito un centro di prima accoglienza in una scuola per fronteggiare l'emergenza Siamo a disposizione, stiamo lavorando Continueremo a farlo nelle prossime ore, nei prossimi giorni Fino a quando chiaramente non sarà tutto messo in sicurezza Per, tra virgolette, poter ritornare in qualche modo anche alla normalità Tra gli sfollati c'è anche questa giovane ragazza Fortemente scossa dopo aver assistito al crollo della palazzina Ho sentito il rumore, mi sono affacciata dalla finestra E ho visto le macerie Non abbiamo realizzato proprio del tutto Però ci siamo messi paura Uno dei feriti invece è tuo cugino Sì, sì, fortunatamente sta bene Il crollo ha provocato il ferimento di tre persone La più grave è una ragazza di 20 anni Estratta viva dalle macerie Che non sarebbe più in pericolo di vita È stata operata al femore Ma presente ancora fratture al bacino e alle vertebre Di pari passo proseguono le indagini Martedì il consulente tecnico nominato dalla procura di torre annunziata Effettuerà un nuovo sopralluogo per svolgere esami irripetibili Che dovrebbero consentire la bonifica ed il sequestro dell'area Il caldo è l'afa Napoli da bollino rosso La protezione civile nazionale ha indicato il capoluogo di regione Tra le città più a rischio domani per l'ondata di calore Situazione difficile almeno fino a mercoledì Ma l'anticiclone africano non darà tregua per tutto il mese di luglio Nelle zone interne si potranno anche superare i 40 gradi Il comune di Napoli attraverso l'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese ha predisposto un piano specifico Per soggetti fragili e senza fissa dimora Ok all'apertura dei beverini in città Su tutto il territorio cittadino Operative 5 unità di strada per dare assistenza Operazione Antica Morra da Cerra Scoperto dai carabinieri di DIA Un asse tra due clan che si dividevano i proventi Dell'attività estorsiva e dello spaccio di droga Droga di varia natura, crack, hashish, cocaina e soldi Sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso delle perquisizioni Eseguite questa mattina nell'ambito del blitz Antica Morra Dei militari di gruppo Castello di Cisterna Che hanno eseguito un'ordinanza di applicazione delle misure cautelari A carico di 19 persone ritenute leglata ai clan Andretta e avventurato di Acerra Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato 31 dosi di crack e 3 di hashish In materiale per il confezionamento delle dosi E 3.445 euro in contante Ritenuto frutto della vendita della droga Stupefacente denaro erano nelle disponibilità Di Sarangela Fortunato e Vincenzo Fuliano Entrambi arrestati in flagranza e messi ai domiciliari Altre 50 dosi di cocaina e un pezzo di hashish È stato trovato nella disponibilità di Giovanni Di Matteo Anche lui arrestato Ma ci sono ulteriori particolari nell'inchiesta dei carabinieri Due i clan che si dividevano i proventi dell'attività illecita Tra spaccio ed estorsioni Inoltre i componenti del clan avevano un'ampia disponibilità di armi Per supportare i suoi business Droga, usura e estorsioni Ma anche per difendersi Quando malgrado i buoni rapporti Sorgevano attriti con il clan rivale Emerge da una intercettazione captata dai carabinieri A parlare al figlio del boss Andretta Che avverte il padre dell'imminente arrivo di un carico di armi E poi c'è la storia dell'inchino alla Madonna Verificatosi durante la processione alla Madonna dell'Arco Il 30 gennaio 2022 Per volontà del boss Salvatore Andretta Davanti alla sua abitazione Grazie a una telecamera nascosta dai militari dell'arma Viene ripresa tutta la scena La parata religiosa durante la processione per le vie della città Fa tappa nella corte della casa di Andretta Are verde e parchi pubblici a Napoli Si apre il confronto in commissione questa mattina a Napoli Con le municipalità Vediamo Il verde pubblico come risorse Non certo più come un problema per la città di Napoli Questa mattina presso la sede del Consiglio Comunale del Capologo Campano La discussione è relativa ai nuovi regolamenti Sui parchi e sulle zone verdi del territorio Di pertinenza comunale Ora i vertici amministrativi di tutte le municipalità Dovranno trovare un punto d'incontro Intanto a breve il Comune affiderà importanti lavori Che riguarderanno numerose zone della città Un lavoro importante che si sta affrontando Che mancava Perché i parchi pubblici secondo noi Devono essere sempre di più luoghi di ritrovo E luoghi di socialità Quindi per questo noi dobbiamo fare in modo Che i parchi diventino sempre più fruibili alla cittadinanza A tutte le generazioni A bambini, agli anziani, alle famiglie Ma allo stesso tempo c'è da mettere delle regole Affinché tutti possano soffrire di quegli spazi Un lavoro sinergico tra comune e municipalità Fondamentale per il verde pubblico La città di Napoli sia pronta a votare A istituire un regolamento per la gestione del verde cittadino È importante il lavoro in sinergia svolto con le municipalità In quanto enti di prossimità E enti più vicini al territorio Pertanto oggi discutiamo insieme degli articoli Che compongono tale regolamento Per integrarli con le sollecitazioni di tutti Giornata da incubo in circunvesuviana Con i passeggeri costretti a scendere dai treni Tra Pompei e Moregine a causa di un guasto E percorrere sui binari sotto il sole rovente Il tragitto che li separava dalla stazione più vicina Alla fine poi una persona ha accusato un malore Ed è stata costretta a ricorrere alle cure mediche Prestate dal personale di un'ambulanza del 118 Ennesima disavventura per i passeggeri Causata da un problema tecnico Con la caduta di un tratto di linea elettrica aerea a Pompei A causa del guasto Due treni sono rimasti bloccati rispettivamente Nelle stazioni di Villa dei Misteri e di Moregine I passeggeri sono scesi dai treni Accompagnati in stazione Ed assistiti dal personale In attesa del servizio sostitutivo del bus Diverse le critiche per la regione Campania Da parte di esponenti del centrodestra E delle associazioni di viaggiatori Tavolo regionale sulla scuola d'Avellino Contro i tagli del governo Promosso dai consiglieri regionali Alaia e Petracca Presente l'assessore all'istruzione Lucia Fortini Che promette Sarà impugnato il decreto interministeriale Vediamo Il quadro di dimensionamento scolastico Da attuare a partire dal prossimo anno È drammatico per tutta la Campania Ma lo è di più per le province delle aree interne Nel totale saranno 120 le autonomie scolastiche E meno in tutta la regione L'Irpinia è con Salerno il territorio Destinato a subire maggiori tagli In base allo schema di decreto interministeriale Ci saranno infatti 18 scuole in meno Dalle attuali 96 si passerà 51 Per questo si è ritenuto di convocare Sindaci e dirigenti scolastici Malgrado le temperature roventi di metà luglio Per affrontare il tema Alla luce delle iniziative Annunciate dal governo De Luca Rispetto alle decisioni nazionali La regione Campania è pronta a impugnare il decreto La conferma è arrivata dall'appuntamento Al polo giovani Organizzato dai consiglieri regionali Maurizio Petracca ed Enzo Alaia Alla presenza dell'assessore regionale All'istruzione Lucia Furtini Impugneremo sicuramente il decreto ministeriale Il ministero doveva pubblicarlo Entro il 30 di giugno Non l'ho ancora fatto Non appena sarà pubblicato Naturalmente lo impugneremo E cercheremo di utilizzare una clausola Che è all'interno del decreto Almeno per conservare autonomie Rispetto al vecchio parametro Dei 600 e 400 Per quanto mi riguarda Penso che sia veramente un provvedimento Un provvedimento disastroso E solo chi si occupa di scuola Ne capisce la portata Perché di fatto accorpamento Significherà perdere personaleata Prima di tutto E quindi anche la possibile chiusura di plessi Ma naturalmente anche una netta riduzione Dei dirigenti scolastici Dei DSGA E dei docenti E quindi una minore qualità Per i nostri studenti E le nostre studentesse Tabella rispettata per i lavori Dell'aeroporto di Salerno Pronto ad entrare in funzione Nell'estate del 2024 Andrea Prete Del CDA della GESAC Ribadisce Il secondo scalo regionale Sarà fondamentale Vediamo Cronoprogramma rispettato Salvo problemi e imprevisti Fra un anno L'aeroporto di Salerno Entrerà finalmente in funzione La conferma Arriva ad Andrea Prete Presidente della Camera di Commercio E membro del Consiglio D'amministrazione di GESAC Il secondo scalo della campagna È un'esigenza imprescindibile Anche per Capodichino Il cronoprogramma dell'aeroporto È che si stanno facendo I lavori per allungare la pista A 2000 metri Una volta ultimata E quando andrà in vigore Si potranno fare Con la pista aperta Anche il prolungamento A 2200 metri Dopodiché Io vi dico solo Che a Napoli Sono letteralmente saturi Veramente Quest'anno Si stanno registrando Numeri Mai visti Quando ritenevamo Che il 2019 Era già un anno record Oggi Ogni settimana Di questo periodo Normalmente Rispetto alla settimana Equivalente Del 2019 Abbiamo un incremento Tra il 25 e il 30% Del traffico Quindi parla da sola E da questo L'esigenza Di Salerno Che sarà ovviamente La seconda pista Della Campania E quindi potrà far crescere Tutto il sistema Aeroportuale regionale L'obiettivo È farsi trovare pronti Per l'estate prossima Che potrebbe segnare L'inizio di una nuova storia Per tutto il territorio Di Salerno Quando sarà pienamente operativo Il costa d'Amalfi Mi sembra che non ci siano Ostacoli Ai lavori in corso Dopodiché È chiaro che si partirà Poi quando si parte Non è che puoi partire Da zero a 100 Deve avere una fase Di accelerazione Ma si parte Il 2024 È polemica Benevento Dopo l'ennesima denuncia Di un cittadino Sul pronto soccorso Dell'ospedale San Pio Ritardi Mancate comunicazioni Con i familiari Al centro Della questione Vediamo Nel Sannio Resta attuale Il problema Del pronto soccorso Dell'azienda ospedaliera San Pio Pochi medici Per gestire La grande affluenza Di pazienti Che arrivano quotidianamente Nel reparto di emergenza E tante proteste Specialmente Dei familiari Dei pazienti Che troppo spesso Non riescono Ad ottenere informazioni Sulle condizioni Dei propri cari Dopo la lettera Denuncia Di una cittadina Ora ad intervenire La CISL Funzione pubblica Con una nota A firma Del segretario Massimo Imparato Che provocatoriamente Chiede di chiudere Il pronto soccorso Sanita Per gestione Inadeguata Tuona Ma che di fatto Chiede invece Un intervento urgente Da parte Della regione Per chiedere Chiarimenti Al management Della struttura Sanitaria Che pochi giorni fa Ha assicurato Invece Che si sta lavorando Su più fronti L'attenzione Sulla sanità Resta alta Anche da parte Della politica C'è una carenza Di medici E' chiaro Che noi abbiamo Un problema Sia per quanto Concerne Il pronto soccorso Ma anche Anche per il 118 Ci sono Delle grandissime Preoccupazioni Specie poi Nel fortore E in altre zone Noi abbiamo fatto Proprio una richiesta Per poter aumentare Il numero Dei medici In servizio Per poter Sopperire A queste Criticità E faremo di tutto Noi Ce la stiamo mettendo Tutto Proprio perché Ripeto Quelle che sono Le preoccupazioni Dei pazienti Sono le nostre Preoccupazioni Tutti ci auguriamo Che possa migliorare Questo servizio E noi politici Abbiamo il dovere E sicuramente Lo stiamo facendo Di farci sentire Di fare delle proposte E di indurre Chi di dovere A porre Rimedio Ladri scatenati Ad Avellino Svaliggiata nel weekend Anche la casa Del direttore del GRRI Pionati Che a 8 channel Lì ci siamo presi D'assalto Da bande Senza scrupoli Vediamo Allarme sicurezza Ad Avellino Dove si assiste Ad una vera e propria Escalation Svaliggiata Tra le altre Anche la casa Del direttore del GRRI Ex parlamentare Francesco Pionati Il ride Nell'appartamento Di Parco Abbate Nel centro città Ancora da quantificare Il bottino del colpo Messo a segno Dai malviventi Nel weekend Presumibilmente Nelle ore notturne Ora sono in corso Verifiche sulle telecamere Di videosorveglianza C'è amarezza Impionati Che abbiamo raggiunto Al telefono Per un fenomeno Quello di furti In appartamenti Che ad Avellino Non sta risparmiando Nessuno Mi pare ci sia Un incremento sensibile Di furti in appartamento Contemporaneamente A quello nel mio appartamento Ce n'è stato fatto Un altro Al piano di sopra Quindi praticamente Ormai agiscono Su larga scala Sono delle bande Di professionisti Che stanno Veramente esagerando Nel senso che Mi sono arrivati Tanti messaggi Di solidarietà Perché la notizia Si è diffusa E tutti mi dicevano Nel mio quartiere Nel mio palazzo Nel mio insediamento Negli ultimi mesi Ci sono stati Dei furti Quindi è un allarme Veramente sicurezza Su larga scala Al quale Risponderanno Senz'altro Le forze dell'ordine Alle quali va comunque Il mio Totale apprezzamento Per come si sono comportati I carabinieri Sono stati Immediatamente operativi Sono stati Molto molto cortesi Molto professionali E dobbiamo Capire Chi ha puntato La nostra città Come terreno Di conquista Criminale Questo è il nocciolo Del problema A Salerno Non si placano Le polemiche All'interno Della maggioranza Nuovo a fondo Anienlo Salsano Il sindaco Dica ai suoi assessori Che la ricreazione È finita Sentiamo Non si placano Non si placano Lo scontro politico Al comune di Salerno Gli errori riscontrati Nel bilancio Consuntivo Dall'opposizione Ed accertati Anche dai revisori Dei conti Hanno fatto finire La giunta Sotto il fuoco Incrociato Per il consigliere Regionale Della Lega Aurelio Tommasetti La vicenda Certifica Il fallimento Dell'amministrazione Comunale Sul bilancio E fa emergere Numeri molto preoccupanti Per la tenuta Finanziaria Del comune Ma il caso Ha provocato frizione Anche all'interno Della stessa maggioranza Con i popolari E moderati Che hanno fatto Sentire la propria voce Non è che ce l'abbia Personalmente Con la mia collega La professoressa Paola Di Nolfi Che è un'ottima docente Però ritengo Che tutti Debbano impegnarsi di più E che non si possa Incorrere in errori Come quelli Nei quali Si è in corso Ho detto L'ho detto Puro poco Anzi Al mio ottimo amico Enzo Napoli Ho detto Tu devi invitare Gli assessori A lavorare di più E devi usare Un linguaggio Deluchiano Devi dire loro La ricreazione è finita Frizioni interne Che potrebbero Provocare scossoni Anche all'interno Della stessa giunta Comunale Di Salerno Non vogliamo chiedere Nessun rimbasto In giunta Però il sindaco Insomma Deve valutare Dopo l'approvazione Del bilancio Se la squadra È all'altezza Per continuare così Perché io Noto che ci sono Delle lamentelle In città Andiamo nel Sannio A Foiano Di Valfortore Tutto pronto Per il Feo Fest Si celebra La natura E si studiano Soluzioni Contro lo spopolamento Vediamo Non il solito Evento estivo Il Feo Fest Di Foiano È molto di più Di musica Ed enogastronomia In un'estate Di paese C'è la presa Di coscienza Dei problemi Delle aree interne Dallo spopolamento Alla resilienza Della natura Come ha spiegato Anche il sindaco Del centro fortorino Giuseppe Ruggero Il Feo Fest Nasce Certamente Con una manifestazione Ambientalista Che apre La finestra Su una serie Di questioni Importanti Che ultimamente Vanno molto Diciamo Di moda Sui telegiornali Sui programmi Di opinione Ma è anche Un momento Di riflessione Capire queste Piccole comunità Questi borghi Di cui anche Si parla tantissimo Quale futuro avranno Ma soprattutto Quanti anni di futuro Ci sarà ancora Dibattiti Oltre a musica E prodotti locali Dunque per far luce Sull'importanza Della natura E dell'esigenza Sempre più cogente Di una strategia Nazionale Per i paesi dell'osso Io credo Che la questione Dei piccoli borghi Specie quelli Molto piccoli Vicino ai mille abitanti Sia un'emergenza A questo punto Nazionale Perché poi Anche se sono molto piccoli Molto spesso Hanno territori Molto vasti Quindi rischiamo Che entro 30 anni Ampi territori Della nostra penisola Siano completamente Disabitati Il vero problema Che porremo Anche come il Feofeste Cosa facciamo Di queste aree interne Ma realmente Non a chiacchiera Nei nostri convegni Del 28 e 29 luglio Dove ci saranno Tantissimi ospiti Immaginiamo anche Il futuro Si è parlato Di tutela Dell'ambiente E del paesaggio Anche in un confronto Che si è tenuto A Napoli Promosso dai costruttori Edì Li vediamo Tutelare l'ambiente E il paesaggio Ma senza estremismi Trovare una strada Che coniughi Innovazione Sostenibilità E vincoli È possibile Anche a Napoli E in Campania Questo in sostanza È il messaggio Che ha voluto lanciare L'ACEN Insieme agli ordini Tecnico-professionali Di Napoli E provincia Riuniti Presso la sede Di Piazza dei Martiri Per affrontare il tema Dei vincoli paesaggistici Che spesso Frenano lo sviluppo La nostra richiesta È quella Di avere un approccio nuovo Una tutela Del paesaggio Intesa in senso attivo E non passivo Abbiamo visto Che la tutela Fatta solo di divieti Condanna il paesaggio Al degrado Perché è impossibile Tutelare il paesaggio Se non ci si può Incidere sul paesaggio Quindi noi chiediamo Un nuovo piano paesaggistico Che consenta Di occuparci Effettivamente Del territorio A chiudere i lavori L'assessore regionale Bruno Discepolo Che spiega Il lavoro Che si sta portando avanti Per l'approvazione Del piano paesaggistico Campano Stiamo andando avanti Abbiamo fatto Due passi importanti Che sono Oltre all'approvazione Del preliminare Che viene già Da alcuni anni Quello fondamentale Della ricognizione Dei vincoli È un approccio diverso Che ora dovrà guidare Un po' Tutti noi Il legislatore nazionale Gli amministratori In termini di revisione Del rapporto E di un equilibrio Più avanzato Tra tutela E conservazione E elementi Di innovazione Profonda Anche tecnologica Che ci richiedono Oramai La transizione ecologica Energetica E i cambiamenti climatici I campi scuola Della protezione civile In Campania Riflettori puntati Sul rischio A negamenti Sempre più frequenti Tra i bambini Vediamo Dimostrazioni E salvataggi in acqua Attività ludico Ricreative Ma soprattutto prevenzione Sono le immagini Spettacolari Delle attività Svolte nell'ambito Dei campi scuola Della protezione civile Ben 51 In Campania Il numero più alto In Italia Che hanno visto Il coinvolgimento Anche della guardia costiera Di Salerno Ne parla con soddisfazione Il presidente Dell'associazione Flumerese Impegno e solidarietà Francesco Giacobbe A conclusione Dell'esperienza Vissuta dai ragazzi Adariano Irpino È una bellissima esperienza E soprattutto Ringrazio veramente Tutti i volontari Perché senza di loro Non sarebbe stato possibile Questo bellissimo progetto Tutto ha funzionato Alla perfezione Beh diciamo sì Con tutte le componenti Siamo riusciti a fare Una bella Una bella esperienza Veramente Impegno e solidarietà Trent'anni insieme a voi Tante esperienze Che vanno dal Dal terremoto Umbria e Marche Del 1997 Passando per 15 Sarno Del 98 Isola Caporizzuto Poi c'è stato L'Aquila Che ha determinato Effettivamente Proprio un cambio Nella gestione Della protezione civile E poi tante altre cose Terremoto di Amatrice Vari alluvioni E altre emergenze Che hanno fatto sì Che crescessimo Ma soprattutto Che crescesse Il gruppo di giovani Che mi circonda Che è la cosa Più Cozpi Si Hai Li age Una bella Che Li age Chi 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 Grazie a tutti.